Buon pomeriggio a tutti, buon mattedio a tutti, la io ho andato a 10 km in 41 minuti e 20 secondi. Questa è dietro alla mia palestra, ho andato a Irulan, poi ho arrivato a Cori, adesso ho fatto la palestra, ho aumentato da 6 kg a 12 kg, azzà, e pesi. Poi ho fatto il tapirulan, 10 km in 41 minuti e 2 secondi. Un bacio a tutti, mai arrendersi, sudore, sacrificio, forza e volontà, determinazione, tanta 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 costanza e soprattutto mai arrendersi. E' un bacio, tutta la mia palestra.